salve ragazzi bentornati nel mio canale oggi siamo qua sempre con jump force per continuare la storia sperando di non perdere metà video come l'ultima volta missioni chiave abbiamo pulizie sempliciotti e altri io iniziere con pulizie vegeta andate voi speriamo che almeno serva ad ammazzare il tempo volte bushi cerca di starmi dietro sei tu che hai un lavoro per me si sono molte cose solite rio saeba detto city hunter non lo conosco comunque tiratore infallibile e swiper di grande esperienza credo si lega swiper una splendida fanciulla che conosce tutto di me e mi vuole deve essere il mio giorno fortunato voglio assoldarti costa parecchio mi sono informata la tua ricompensa sarà un appuntamento con una bella donna fare fatto è un gran morto di figa dove sono i venom a quindi adesso scontro contro di lui il disinfestato a che gli ha già inserito il cubo è stato posseduto proprio come successo a me ok ok un giallo subito così brutto uso allora subito una bella combo di 7 colpi tutti tutti leggeri rasengan no non sono riuscito a fallo oh piano 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 capo vediamo con rasengan se lo para non lo parerà tanto leggero leggero pesante e andavo con il pugno di fuoco preso in pieno benissimo c'è andata bene e ci pariamo è andata male parecchio bellina bellina lui è andato con la finale no brutto e tanto adesso ce la famo anche noi una bella finale dai che l'ho preso si morto no no per sicurezza no se sa parola dai dai sì che quello è andata benissimo lo ammetto è un guerriero abile presto prendi il cubo ho portato un nuovo alleato per la jump force mi chiamo rio seba come va la vita è proprio così è un avversario formidabile addosso l'odore della battaglia proprio come ho sentito dire che abbiamo un nuovo alleato a lui a boh ancock tanta roba wow che ne dici di conoscerci meglio bellezza che ti credi di essere stammi lontano lei è innamorata soltanto di cappello di paio ovviamente pensi ancora che sia uguale a te e non lo pensa più sempliciotti vai a velo gone dietro in questa sessione dovrei collaborare con boruto questo ragazzino è gone non so legge il cognome abbiamo poche informazioni su di lui ma sappiamo che possiede un potere smisurato è assolutamente vero al momento però è controllato da un cubo umbras nero brutto ha tentato di fermarlo ma non ha avuto fortuna quindi queste missioni si basano tutte immagino sul reclutare alleati dovrebbe essere da queste parti eccolo è cazzuto tanto gone è parte chiesse bellissima è forte tanto e tu questa volta non te la caverai così facilmente va bene va bene si tanto questi sono tutti discorsi dialoghi inutili grazie allora da quello che ho visto al momento iniziano tutti attaccando quindi io inizio con la parata merda nooo cazzo vabbè dai ancora si può recuperare ah io poi posso anche cambiare personaggio me ne manca accorto vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', rasengan vai preso un pieno ma si la palla di fuoco suprema che ha schivato la parata colpo colpo così la presa non è entrata nessuna delle due volte ok ok quindi non può cambiare posizioni da quando si prepara col colpo e l'ho fermata stavolta non so perché prima non mi è riuscito foglio di fuoco nooo di solito non è andato dai 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 la palla di fuoco si tanto allora lui dovrebbe andare con la finale in teoria adesso vero? e io vado con rasengan nooo ah beh se è caricato ho fatto la cosa cosa figa vediamo un po' che fa boruto non gli fa niente ah si la pallina figa che va lenta ok il rasengan sempre dovrebbe essere così questa è la base umbras impressionante non vi ho ancora ringraziati ho pochi ricordi non so cosa è successo ok grazie mille nessun problema la presentazione i complimenti e benvenuto nella Jump Force il prestigiatore il prestigiatore uh cozzoro stavolta grandissimo zoro grazie per essere qui così sono capitato con te è un problema? no ci dica i dettagli molto bene allora a Parigi chiunque sia immagino che provenga da un mondo Jump come te la cosa si fa interessante ok quindi noi non sappiamo chi sia adesso quello che tocca sconfigge siamo liberi di far come vogliamo allora ho una brutta sensazione sento che qualcuno ci sta seguendo verifichiamo e tu fatti vedere uh isoka 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 si isoka sempre da hunter hunter allora però lui è uno dei cattivi se non ricordo male dovremo batterci eh però lui non non è controllato allora isoka l'ho provato ah principalmente contraattacchi come la mossa ha fatto adesso se lo colpevo lui contraattaccava quindi io andrei con attacchi comunque da da distanza comunque lui si se ne ho sbaglio è uno dei dei cattivi non credo che che si farà riclutare comunque almeno facilmente poi boh ma vediamo allora sempre al massimo ancora non può farmi la trasformazione mi si può vai 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 bella 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 subito con rasenkan altrimenti adesso sono tutti scarsi non farà nessuno troppo facile anche per il momento eh beh certo ha tutte mosse quasi tutte mosse a corto raggio non pensavo che questa valeva come per contraattacco non è entrata la presa ah troppo lontano subito corre la senga no non si è inserzato per te è pesante e lo finimo con la presa dai parti allora ti sei rinfrescato le idee che delusione eh speravo che poteste farmi emozionare di più ma sentite mi ho anche fatto quello ma sta un pazzetto perché mi sto cercando di uccidermi mi ha tolto le parole di bocca allora quindi adesso si si combatte di nuovo quindi credo che aspetterò un po' prima di assaporarne il gusto avete detto qualcosa sui reclutamenti volete che minisca il vostro gruppo l'idea era quella se mi garantite vita alloggio e vestiti ci sto eh però ci sta quindi si unisce no io non ti credo non farà mai bravo quindi il video finisce qua se vi è piaciuto sostenete il canale io cercherò di portarvi 3-4 combattimenti per volta per non fare il video troppo lungo poi andrà anche in base ai vari tagli e niente alla prossima per la prossima Grazie a tutti.